E che sia un Natale dorato e pieno di luce per tutti. Arte per te vi augura questo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, secondo appuntamento con i video dedicati al Natale. Questo è un appuntamento a cui io tengo tantissimo perché riprende un po' l'orma di un video che fece il primo anno di Arte per te. Ricordate l'angelo bianco del Natale? Vi metto qui il link, lo conoscerete tutti perché è uno dei video più cliccati di Arte per te. Quest'anno un altro angelo torna sulla ribalta del Natale a Arte per Tino e sarà un angelo tutto dorato, l'angelo della luce dorata, quello che voglio arrivi in tutte le vostre case. Un bellissimo lavoro da fare in compagnia dei più piccoli ma anche da creare in forme più articolate per i grandi. Decidete voi come farlo, l'importante è che il vostro Natale sia pieno pieno di luce come qui attorno a me. Naturalmente questa non è casa mia, non immaginate che io abiti in un castello con tutte queste decorazioni alle mie spalle. Sono ospite di Alfea che gentilmente mi ha offerto le location per i primi video di Natale non avendo io ancora allestito nulla in casa e avendo così invece la possibilità di offrirvi sempre spettacoli bellissimi di cui godere. Quindi io ringrazio anche Alfea per l'ospitalità. E allora se vogliamo preparare insieme questo Natale dorato non ci rimane che spostarci sul piano da lavoro e andare a preparare il nostro bellissimo angelo. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro angelo dorato del Natale. Allora innanzitutto una bomboletta spray acrilico dorata. Mi raccomando quando comprate la bomboletta fate attenzione a che siano le bombolette di nuova generazione. Cioè tolto il tappo qui non ci deve essere la cannula che esce e qua dentro ci deve essere una guarnizione in plastica che faccia in modo che la bomboletta non venga spruzzata se non con l'intenzione di farlo. Quindi si toglie il beccuccio, si estrae questo tondino, questa guarnizione e quindi la bomboletta poi sarà pronta per espellere il tutto. E' tutto indicato qui nelle indicazioni appunto. Mi raccomando state attenti a queste raccomandazioni che possono sembrare del tutto inutili ma che in realtà sono molto molto utili. Con l'accaldo attacca tutto. Una pinzatrice, una pallina da ping pong, un paio di forbici, matita e gomma, un cartoncino abbastanza spesso. Potete usare anche, che ne so, il barattolo delle Pringles oppure un cartoncino che sia abbastanza spesso, non troppo morbido. E poi la protagonista della semplicissima pasta. Scegliete voi il tipo di pasta da usare, quella che reputate più congeniale alla decorazione dell'abito del vostro angelo. Il cartamodello per l'angelo, per quanto concerne il corpo e per quanto concerne le ali, lo trovate nella mia pagina Facebook, tra le foto, cercando tra gli album, L'angelo bianco del Natale, quest'album però da oggi si chiamerà Gli Angeli del Natale, sagome appunto. Vi metto il link anche nel box informazioni per accedervi in maniera diretta. Bene, e adesso cominciamo subito. Se sarete andati su Facebook, quello che avrete sarà una forma così, un po' conica, e appunto le ali di cartoncino. Io le ho rifatte qui live, è molto semplice farle. Basta poi arrotolare su se stesso il cartoncino, anzi, perdono, io lo voglio fare da questo lato. Arrotolare su se stesso così il cartoncino, e chiuderlo fino a quando non saremo soddisfatti della forma conica che vorremmo. Ecco, io a questo punto sono, vediamo un po'. Sì, a me va bene così il mio angelo. Quindi, a questo punto, o fisso con la colla a caldo, o semplicemente do dei punti di spillatrice, che sicuramente è qualcosa di più immediato. Io farò entrambe le cose, dopo aver dato la spillatrice, inserisco all'interno la colla a caldo. Fate attente a non bruciarvi, perché la colla a caldo raggiunge temperature molto molto alte. A questo punto, con un paio di forbici, rendo meno a punta l'apice, perché lì andrà ad alloggiare poi la nostra pallina da ping pong, poi vedrete, che fungerà da testa del nostro angelo. Ok, a questo punto, quindi, ho il mio cono di cartoncino su cui puoi formare il corpo del mio angelo, e la testolina che andrà all'apice per contornarne la figura. Quindi, le ali che andremo ad applicare dopo, dietro, così, vedete? E il nostro angioletto sarà completo, l'interno tra l'altro sarà tutto rifinito, perché ovviamente è dorato. Cominciamo adesso, quindi, a costruire il nostro angelo. Il nostro angelo avrà la particolarità di avere il vestito agghindato tutto con della pasta, che attaccheremo o con la colla a caldo o con la vinavil. Detta così sembra una schifezza, ma in realtà vedrete che verrà fuori una cosa molto molto bella e suggestiva. Comincio subito a stendere un paio di fili di colla a caldo, così. E senza perdere troppo tempo, vado ad adagiare la pasta che ho scelto. Io qui ho scelto dei fusilli. Li metterò uno accanto all'altro. Siate molto ordinati, veloci, ma attenti a non bruciarvi. Con la colla a caldo non è un lavoro che potrete fare con i bimbi, ma con la colla normale, sì, potreste anche divertirvi con i vostri bimbi a costruire gli angeli del Natale. Il nostro primo strato è fatto e guardate che bella la resa. Ora dobbiamo distanziare il primo strato da un secondo strato. E allora useremo un taglio di pasta differente. Adesso, piano piano, facciamo una bella striscia di colla tutta attorno. Certo, non mettetene tanta tutta assieme, perché sennò il tempo che poggiate la pasta si asciuga ed è finita, insomma. E appoggiamo, ho deciso di usare le farfalline. Farfallina, tacchete, e anellino, tacchete. State attenti all'anellino che è forato e potreste bruciarvi. Farfallina, e anche il secondo giro è fatto. Ora sembra un po' sfoglio, ma quando andrò a mettere la vernice, vedrete che verrà tutto molto molto bello e omogeneo. Adesso farò un'altra linea. Con una pasta che sia molto accostata, perché voglio coprire il gancetto, quindi userò gli gnocchetti sardi. Adesso lascio una fascetta totalmente libera, e cerco di riequilibrare l'andamento, dando un altro giro di fusilli. Quindi sì, siccome questo è stato messo su e giù, mi serve un po' di ordine sul vestitino dell'angelo. Allora lascio una fascetta vuota, e poi metto qualcosa di abbastanza lineare, tutto attorno. perché tanto lì lo riempirò con un altro tipo di pastina più piccola. Questo è quello che avremo. Sistemate bene la pasta, come meglio ritenete opportuno, al limite rinfrancherete con un altro punto di colla a caldo. Ora qui aggiungo un altro taglio di pasta, le conchigliette, che metterò un po' trasversali, così, una accanto all'altra. Si vede? Scusate, ogni tanto mi dimentico che ci siete anche voi. Ma solo ogni tanto. Et voilà. Altro giro di pasta. E qui metto i cerchietti, uno accanto all'altro. Se vi state chiedendo se ho preso le misure prima di fare i giri, per questo riesco a far entrare la pasta ad ogni giro, la risposta è no. È solo una grossissima fortuna. Spero che l'abbiate anche voi nel sistemare la vostra pasta. Adesso, arrivati a questo punto, dobbiamo stare un po' attenti, perché qui vanno attaccate le ali. Vedete? Qui sul retro, così. E quindi io vi consiglio, su questa parte, di evitare di attaccare pasta. Quindi arrivate solamente sui lati, con la pasta che metterete. E anche qui io metterò i fusilli, tutti dritti, tutto attorno. Et voilà. E adesso sistemiamo gli ultimi due giri. E io qui metterei tutto attorno degli ignocchetti salvi in obliquo. Così. e proprio qui attorno al collo, tre farfalline. Et voilà. Ora, siccome questo è troppo basso rispetto al resto, io al centro di ogni due anellini vorrei provare a metterne uno, così. Ok, si può. Quindi metto la colla al centro, nella congiunzione tra i due sotto, e faccio scivolare sopra quello nuovo. così che venga un gioco più di chiaroscuri nel momento in cui andrò a spruzzare la bomboletta dorata. Sinceramente non mi piace questa striscia molto irregolare, quindi credo che l'andrò a rimuovere. Ho rimosso il giro di ignocchetti salvi che avevo dato qui, perché non mi piaceva per nulla, detto tra noi, non lo dite in giro, eh? E allora cercherò di dare un'armonia migliore al tutto, riproponendo un altro giro di farfalline e cerchietti, però al contrario. Sopra ogni cerchietto una farfallina, e sopra ogni farfallino un cerchietto. In modo che dovrebbe venire così una linea abbastanza dritta. Proviamo tutto a suo posto. Benissimo, così mi piace molto, molto di più, tutto molto più ordinato. E adesso qui mettiamo tutto a giro, giro, gli ignocchetti sardi, uno accanto all'altro, obliqui. Il corpo del nostro angelo è completo. Guardate che bello, tutto frastagliato, pieno di chiaroscuri. Vedrete una volta spruzzato come risulterà bello. Adesso andiamo a creare le nostre ali. E comincio a scegliere l'andamento che voglio dare quindi alle mie ali. se usare gli ignocchetti sardi o se invece usare un altro tipo di pasta come per esempio le conchigliette. Anche queste molto indicate per fare il più maggio. Innanzitutto io faccio la parte esterna che è la più semplice in quanto è tutta piena di pasta e comincio a coprire. Questo è proprio un lavoro certosino. Vanno messe proprio così una sull'altra l'una l'una e ho scelto le conchigliette. ok ultimata mezza ala facciamo l'altra esattamente allo stesso modo. Finite entrambe le ali liberiamole da tutti i filini della colla a caldo stiate molto attenti a toglierle tutti prima di passare la vernice sull'angioletto ma ancora c'è un po' di strada da fare fino ad arrivare a quel punto perché adesso dobbiamo girare le nostre ali e riempirle di pasta anche da questo lato. Alla fine quello che avremo sarà questo e come vedete ho ricoperto tutta la superficie delle ali da ambo le parti perché guardate che bello che viene poi. Bene adesso ci rimane la parte finale che è data dalla testolina eccola qua la testolina data dalla pallina da ping pong di cui dobbiamo decidere la sezione da lasciare vuota quindi quella preposta a rindicare il faccino su cui io non metterò nessun orpello perché questo risulterebbe un po' infantile renderebbe l'angioletto un po' più infantile ma se voi vorrete con anche dei ghi di riso potrete mettere gli occhietti il nasino o la boccuccia se volete un angioletto più adulto io vi suggerisco di lasciarlo assolutamente liscio il volto definita la parte che voglio lasciare libera quindi decido con quale formato di pasta voler ricoprire la mia testolina possono essere le conchigliette e i fusilli se volete un angioletto femmina con i boccoli insomma decidete voi io credo che lo farò con le conchigliette ma intanto cominciamo visto che carina viene molto molto bellina ok e io mi fermo qua col con i capelli vedete poi andrà agganciato qui e sarà il suo faccino vado ad assemblare il mio angelo qui bisogna prestare molta 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 attenzione e fare tutto molto velocemente ma anche molto bene quindi spruzzate di tantissima colla a caldo senza bruciarvi ragazzi mi raccomando senza bruciarvi o di colla ma in quel caso ovviamente i tempi saranno davvero dilatati ok prendere le ali e adagiare la parte che si vuol far vedere e tenere premuto finché il tutto non rimane bene bene assemblato ok a questo punto le ali sono montate vi faccio vedere fanno su da sole come vedete e quindi mi appropinco al montaggio della testolina anche qui con molta colla a caldo qui su tutto il retro in modo che sigilli ancora maggiormente il corpo le ali e tutto ora lo devo girare verso di me per vedere cosa faccio ok e voilà adesso lasciamo asciugare a questo punto è tutto montato testa ali non si vede granché devo togliere adesso tutti i filamenti della colla e poi vi faccio vedere una cosina che ho fatto dietro che è ecco qui alla fine qui sotto siccome c'era il buco tra le ali e il collo ho messo un fusillo per dritto e un fiocchetto in modo da simulare una finta coda così questa è la visione da dietro adesso mi metto in balcone e darò su tutto una bella mano di vernice dorata io ho scelto un dorato chiaro ma potete scegliere anche un rame un bianco perlato vengono bellissimi anche un bianco e poi glitterarli argentati sbizzarrite la vostra creatività anche così al naturale color pasta diciamo così è molto 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 bello vero? a me piacciono molto questi angeli sono carichi di atmosfera e vedrete adesso dopo la vernice attrice guardate dal vivo live quanto è bello è stupendo sembra un oggetto in ferro battuto in ottone è un qualcosa di veramente veramente bello il mio tra l'altro non è nemmeno del tutto asciutto vi faccio vedere la parte davanti bene adesso io lo lascio asciugare ulteriormente perché guardate un po' è ancora bagnato ho avuto proprio il desiderio di farvelo vedere live perché quando le cose sono belle sono fatte col cuore si ha la voglia di parteciparle agli altri questo è un po' il senso del mio essere qui sul web quando poi una cosa che so che vi faccio fare riesce veramente veramente bella ho il piacere di farvela vedere così in presa diretta ora vi faccio delle foto anche un pochettino più artistiche e noi ci vediamo dopo ciao visto che è bello il nostro angelo tutto dorato fatto semplicemente di pasta e di cartone avreste mai detto che una cosa così elementare può risultare così bella armoniosa e ricca sono sicura che farà un successone tra i vostri decori e come regalo da fare agli amici più cari e i vostri bimbi sono certi si saranno divertiti tantissimo e in più questi sono lavoretti che io sempre vi consiglio per far sì che i vostri figli rimanga un bellissimo ricordo della preparazione al Natale lavorate create il vostro Natale insieme ai vostri figli è bello acquistare cose è importantissimo uscire a fare shopping natalizio ma poi ritagliatevi sempre uno spazietto per crearvi da soli il vostro Natale bene se questo video vi è piaciuto mi raccomando regalatemi un pollice in su magari tutto glitterato in oro e lasciate tanti commenti qua sotto e condividete il video io vi aspetto al prossimo che sarà sicuramente un altro video di Natale e chissà che location sceglierò per farlo lo scopriremo presto intanto vi mando un grande bacio e vi auguro il più splendente e dorato dei Natali da ombretta ed arte per te è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao